a fila dietro deve essere atomica ma che bene le animazioni mica tira già da adesso di più porca troia si tira di più ma si ma te lo devo si tira molto di più di oggi a voi a voi a se tira di più di oggi vediamo se ci giriamo avanti o indietro indietro oi 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 ma quelli che cazzo è intorno adesso oi tira ma è l'ultima fila anche tanto si 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 no no sicuro andava al doppio andava al doppio di oggi quando fai quei salti così ma si ha tanto anche veloci coaster ancora quella che abbiamo fatto di universal è ancora peggio di così più veloce